Senta, dovesse non essere ricandidato dal partito, adesso vedremo, continuerà a fare politica fuori, ha già fatto i calcoli, ha già fatto i calcoli anche del vitalizio che le spetta dopo tante regole. Molto modesto, mi hanno detto 6.800 euro. No, scusi, modesto, 6.800 euro. 6.800, sì, perché se lei pensa quanto prendono l'equazione di amministratore dell'Enel, delle ferrovie... Ho capito, ma anche, scusi, i metalmeccanici dopo 40 anni non prendono... Dopo 40 anni prendono cose, 6.800 euro con altre situazioni che verranno ad essere decultate. Mi scusi, è molto modesto secondo lei? Io sto parlando, io sto parlando non del netto, sto parlando ovviamente delle... Sì, ma mi scusi, mi scusi, onorevole Tassone, si ponga nei panni... Aspetti, mi faccia dire una cosa, mi faccia dire una cosa, si ponga nei panni di un metalmeccanico che lavora 40 anni e prenderà 1.000 euro di pensione al mese. Io vorrei avere, io vorrei avere, l'identità di un direttore, purtroppo la devo lasciare, di un direttore di un giornale. Lei lo sa che i direttori dei giornali, io soprattutto i direttori della RAI, prendono i 15-20.000 euro anche quando non sono più direttori. E beati loro. No, no, beati lei lo sa, ma in carità lei... Io sono di Radio 24, la RAI... Allora, io lo saluto moltissimo. Vabbè, grazie. Io parlavo il nonno del netto, parlavo ovviamente dell'orto... Sì, però molto modesto, molto modesto, capisce che 6.800 euro, molto modesto. Sì, beh, saranno 3.500 in tutto, perciò... Ed è modesto. Uno pensa che ci sono dei 10-15... Cioè, lei o qualsiasi direttore generale vende molto di più. Allora, lei ovviamente deve farsi un quello di riferimento più serio. Sì, grazie. La auguro moltissimo che me la mantengono alla Radio 24. Grazie, mi auguro anch'io che mi mantengano qua. Ovviamente sono di Bassa Lega. Va bene, la ringrazio. Bassa Lega, non nel senso di Lega. Grazie, adesso vado a studiare un pochino di politica, di Costituzione, anche americana. Così mi preparo per le imminenti elezioni americane. La ringrazio molto, onorevole Mario Tassone, dal 1976 in Parlamento. Le auguro ovviamente di godere per tantissimi anni, almeno 50-60, di questo modestissimo vitalizio di 6.800 euro.